Dove scappi Matilde? C'era una volta il contadino Everardo, il quale tutte le sere si addormentava sognando la sua pecorella Matilde che saltava la staccionata della fattoria. Ma da qualche tempo, dopo due o tre salti, Matilde nel sogno belava così forte che Everardo si svegliava di colpo e non riusciva più a dormire. Finché una sera, vattene via, attuonò il contadino dopo averle tirato dietro un ferro da stiro e non farti più vedere in questa fattoria. Ah, già è difficile stirare le maglie di lana, pensò Matilde mentre scappava, figurarsi le pecore. E così lasciò la fattoria, alla ricerca di un posto più tranquillo. Cammina, cammina, la povera Matilde arrivò nella foresta africana. Ma con tutta quella lana addosso, gli animali della foresta la prendevano in giro e ridevano alle sue spalle. Ah, 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 ma guarda che palla di lana, diceva la giraffa torcendosi il collo dalle risate. Hihihihi, questi turisti non sanno proprio come vestirsi quando vanno all'estero, ghignava la iena indicando Matilde. Blub, 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 disse l'ippopotamo, senza aggiungere altro, poiché mentre rideva con la bocca aperta, aveva angoiato in un colpo solo 25 litri di acqua. Improvvisamente, mentre tutti ridevano, si sentì un terribile ruggito che fece tacere tutta la foresta. Le foglie degli alberi diventarono gialle, l'erba si drizzò e i cespugli diventarono piccoli piccoli come se volessero nascondersi. Gli animali capirono che era arrivato un ferocissimo leone e che da quel momento c'era poco da stare allegri. Solo Matilde, che non sapeva cos'era un leone, non si preoccupava più di tanto. Il suo unico pensiero era di trovare degli amici, perché fino a quel momento nessuno le aveva rivolto la parola. Intanto la giraffa aveva indetto una riunione straordinaria con tutti gli animali della foresta, per discutere di come affrontare l'arrivo del leone. Dobbiamo trovare una soluzione per cacciarlo via dalla foresta, disse la giraffa guardando tutti dall'alto in basso. Gli animali erano attenti e la guardavano pieni di speranza. Sapevano che la giraffa era furba e che avrebbe trovato una soluzione. Intanto non rideva più nessuno, nemmeno le iene e non si sentiva volare nemmeno una mosca, perché anche loro, come tutti gli animali presenti, avevano una fifa matta della belva. A un certo punto alla giraffa venne l'idea che tutti aspettavano. Ci travestiremo da leoni, in modo che il vero leone non trovi nessun animale da mangiare e se ne vada da un'altra parte, disse tutta fiera aggiungendo. È infatti risaputo che i leoni non si mangiano mai tra loro. Ma come faremo? domandarono stupefatti gli animali. Semplice, rispose la giraffa, chiederemo a quella pecora di farci delle sciarpe di lana, che metteremo al collo come fossero delle criniere. Poi, con qualche sassolino bianco in bocca, imiteremo la feroce dentatura del leone. Un travestimento perfetto! Evviva la giraffa! gridarono ancora tutti gli animali. E soprattutto le iene, che a poco a poco avevano ritrovato il sorriso, anzi, il ghigno. La giraffa fu la prima ad arrivare da Matilde e con una vocina falsa, mielosa, le disse Ciao, cara! Che magnifica lana che hai! Veramente stupenda! Oh, grazie, grazie mille, rispose felice la pecorella. Matilde era al settimo cielo, finalmente aveva trovato un'amica con cui parlare. Aveva tantissime cose da raccontare e da chiedere alla giraffa. Per esempio, avrebbe voluto sapere se lì faceva sempre così caldo, dove abitavano tutti gli altri animali e altro ancora. Ma fu la giraffa a iniziare precipitosamente il discorso. Ora che siamo amiche, disse, infatti, guardandosi attorno con circospezione. Potresti farmi un piccolo favore? Ma certo, rispose entusiasta Matilde, tutto quello che vuoi. In quel momento si sentì di nuovo un ferocissimo ruggito. E allora la giraffa disse velocemente, avrei bisogno di una caldissima ceppa di lana. Ehm, hai sentito anche tu quel tremendo rumore, vero? Eh, eh, sì, rispose Matilde. Che cos'è? Ma è il temporale, esclamò la giraffa. È per questo motivo che ho bisogno della sciarpa. Una, uno dopo l'altro, tutti gli animali passarono da Matilde. E lei non era mai stata così felice in vita sua. Credeva di aver trovato tanti amici e lavorava giorno e notte per poterli accontentare tutti. Accidenti, pensava mentre filava la lana. Qui nella foresta deve fare proprio freddo quando arriva il temporale. Intanto il leone diventava sempre più feroce, perché ovunque andasse incontrava solo e sempre i leoni. Vagava per la foresta alla continua ricerca di una preda. Guardava sotto le foglie e dietro agli alberi, ma non trovava mai niente da mettere sotto i denti. Ormai temeva di diventare un leone vegetariano. Che leone alto, pensò a un tratto guardando la giraffa, che nonostante cercasse di nascondersi, spuntava con la testa sopra gli alberi. Eh, quello? Che leone grasso! Pensò incontrando un ippopotamo e aggiunse con un lungo sospiro. Quello sì che ha trovato qualcosa da mangiare. Poco più là vide un leone, con la proboscide, e due lunghissimi denti che gli uscivano dalla bocca. Poveretto, si disse, con quel nasone è proprio ridicolo, altro che il re della foresta. Poi, poco distante, ne vide un altro che saltava da un albero all'altro. Se non avesse quella bellissima criniera e quei denti così bianchi, direi che assomiglia proprio a una scimmia. Che cosa vado a pensare, aggiunse disperato. La fame mi sta dando le allucinazioni. Poi ne vide anche uno a righe bianche e nere, e un altro muto come un pesce, che, a guardarlo bene, aveva anche le squame. Accipicchia, pensava la belva. Qui è pieno di leoni, tutti un po' strani, ma pur sempre leoni. Mi manca solo di vederne uno che vola, e le ho viste proprio tutte. E proprio in quel momento passò sopra di lui un uccello travestito dal leone, che lo salutò cordialmente. Il leone era sul punto di svenire quando Matilde lo vide e gli corse incontro con una sciarpa in mano. Signore, non sia triste, disse vedendo il leone piangere dalla disperazione. Ho preparato una sciarpa anche per lei, con l'ultima lana che mi è rimasta. Non pianga, non deve avere paura del temporale. Il leone non credeva ai suoi occhi. Aveva davanti una pietanza bella e pronta che gli stava correndo in bocca. Che sia un salto in bocca, pensava la belva, che non aveva mai visto una pecora. Poi fece un ruggito di piacere. Mamma mia, il temporale, pensò Matilde. Ma un attimo dopo aveva capito tutto, che la giraffa non era sua amica e che l'aveva ingannata così come l'avevano ingannata tutti gli altri animali. La pecorella cercò allora di mettersi in salvo, fuggendo lontano dal leone, che però era molto più veloce e agile di lei. Nel frattempo, gli animali della foresta se ne stavano nascosti dietro i loro travestimenti e guardavano divertiti l'inseguimento senza rendersi conto che stavano per assistere alla fine dell'unico vero animale della foresta. Ma a un tratto, Matilde, gridò Everardo nel cuore della notte. Il vecchio contadino infilò velocemente le ciabatte e corse alla finestra con un nodo alla gola. Ma per fortuna vide Matilde che, come tutte le notti, stava dormendo beatamente in cortile. Il contadino tirò un sospiro di sollievo e capì di aver avuto soltanto un terribile incubo. Da quel giorno Everardo si addormentava sempre sognando alla giraffa con la criniera, che per paura di essere scoperta dal leone stava immobile come un palo e non apriva mai bocca. Che tranquillità, pensava felice il contadino, e anche se Matilde velava un po', chiudeva un occhio e si voltava dall'altra parte.